Allora, oggi abbiamo prodotto altri due documenti che sono un'ordinanza e una serie di FAQ, quelle domande ufficiali a cui Regione risponde dando spiegazione autentica delle norme approvate. Parto dalle FAQ, che poi troverete sui siti di Regione per le categorie interessate, riguardano il mondo alberghiero. La prima domanda è sui comportamenti all'interno delle strutture comuni degli alberghi e si dispone che la distanza interpersonale nelle aree comuni delle strutture ricettive è sempre di minimo metro, ad eccezione delle persone che fra loro appartengono allo stesso nucleo familiare, nucleo di viaggiatori che occupano la stessa camera. Non vi devo spiegare il perché, se due persone dormono insieme, possono anche stare sotto il metro di distanza. Poi spieghiamo che sono consentiti buffet, così come in Emilia, in Veneto, in altre regioni, forse non era chiaro, purché serviti da operatori muniti di guanti e mascherina. Quello che è importante è che le persone non tocchino fisicamente le vivande, ma al limite serve come spazio espositivo per poi chiedere ai camerieri di fornirle. Gli appartamenti in affitto ad uso breve implicano le stesse linee guida delle strutture ricettive, e mi pare chiaro il perché, sono di fatto assimilabili in tutto, ed è escluse la funzione di ricircolo e gli impianti di condizionamento che lo consentono, mentre se non lo consentono si ha l'obbligo di arieggiare i locali. Questo per quanto riguarda le domande più frequenti, ne seguiranno certamente altre.